ciao a tutti amici benvenuti su questo mio nuovo video siamo su eroponi inserisparte con la nostra fan out mod come in clave dopo lo scorso episodio in cui abbiamo conquistato mondi in punk googling don clayton e pizzi pizzi sono andati anche qui nel missù conquistando questo qui che c'era gravestone una nazione andata nora conquistata adesso che stiamo espandendo sono andato con il punto e con l'istituto e sto prendendo il pit perché a beh qua si è iniziato il gioco con i due nuovi dmc che ho come un senso e altro fu posso far tutto e non posso essere mappurato pure prima però non riesco a sistemare adesso a questo antetruppe per la prima andiamo un po lo sviluppo qua anzi 8 mila uomini e tra poco andiamo in guerra perché dovrei conquistare anche una capita e comunque stante questa capita andando faccio una mia indicazione su su un capitano ok salviamo effetti dichiariamo guerra perfetto 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 una fortuna adesso è un po da manostra e molto contento di questo anche se non è vince correttamente perché il gioco si è sminchiato però a me non va nessun problema il mio desiderio era di distruggere il mio desiderio è questo lo stiamo facendo nessun problema c'è anche una rnc che gli sta aiutando anche se imbomondariamente blocchiamo questi 15.000 tutti che vogliono una pace che pace, come pace? noi vi dobbiamo soccombere vi dobbiamo massacrare, distruggere guarda, guarda, madonna grande, grande nel senso che migliore deve andare qui e vi dobbiamo massacrare oh, oddio eccomi qua dove andate, dove andate scappate dove andate è ma l'educazione scappare sapete ok attenzione attenzione iniziamo innanzitutto mi lascia questa fazione questa nazione a capitale la voglia questo, questo e questo questo e tutto i soldi perfetto attacchiamo scappa guarda come scappa la voglia attacchiamo 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 via una attacchiamo 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 attacciamo a accettato perché liberati da un po di soli una bella mano quindi adesso quando tutto bene conquistiamo un attimo questo ragazzi è successo di un acquistato un po tutto proprio tutto un po troppo non voglio prendere un po di soli quando avevo sistemato un po' ma a questione ok ragazzi The Pit Noir mi sta benita diventa un nuovo passaggio abbiamo quasi finito qui con un'azionamentazione di tutta la nostra bene provincia poi abbiamo un mucchio di soldi penso che questo sia l'episodio più buggato ragazzi giuro che non sto scherzando anche perchè ci sono dei video questo non deve essere un altro questo deve essere un ultimo video solo che è successo che non si è salvato è successo un casino ecco intanto conquistiamo quest'ultimo ah si qua c'erano tutti che vogliono fare la guerra a conto di me a caso va bene non ho fatto niente niente non ho fatto niente va bene io penso che la fine della fine della fine della fine della fine dell'acciaio è arrivata diventiamo il mio passaggio quindi signori ok è buon bellissimo madonna no so qui ragazzi ragazzi la serie finisce qua abbiamo conquistato il pitt midwestern chapter abbiamo sfondato mist coast abbiamo sfondato a mano prima dove lì su tutto l'esercito e gli ho fatto la pace poi sono venuti qua e ho dovuto combattere un po' con la rnc poi ci siamo riusciti siamo riusciti a calarcela forse non abbiamo fondato tutta la manga forse un sogno impossibile come giusto che sia è molto difficile formare tutta la manga ma con questa vittoria con un po' di roba da fare io continuo questa serie offline perchè quello che abbiamo il nostro obiettivo è stato fatto istrugge una midwestern chapter o ridurma avvassarlo come in questo caso va bene ragazzi il video finisce qua la serie è finita spero che la serie vi sia piaciuta mi scuso se è stato un episodio buggato perchè siamo nemici però posso posso fare la neanza e ho ancora i regami diplomatici cioè prima i regami attivi una cosa che non ha senso e vabbè ragazzi questo dov'ess questo è l'ultimo video della serie prima c'è un video che purtroppo per sbaglio ho cancellato che sono stupido in cui vi faccio vedere come conquistavo Clayton Franklin Krang Mark Daniel ed altro no un po' più sopra tipo però l'importante è che abbiamo conquistato la midwestern chapter con la versione di formato con quasi 20.000 tappi 60 tappi 60 tappi di guadagno mensile per me questa è stata una grande vittoria e quindi ragazzi il video finisce qua spero che il video vi sia piaciuto in caso vi sia piaciuto mettete un mi piace commentate vi scuso se come dire questo episodio si è abbagato male forse con i nuovi dmc non lo so anche se a voi prima se l'anni stabilito ebbene ragazzi grazie di una visione